buonasera a tutti e non ci vediamo ma interagiamo allora secondo incontro di questi due soltanto due e adesso spiego perché dico soltanto dedicato a dedicati a roma come viene rappresentata nei sonetti ribelli e dico soltanto due perché in realtà il la presenza di roma nei sonetti è enorme quindi diciamo ci sarebbe bisogno di avere più incontri nulla vieta che l'anno prossimo come diceva mia madre si dio cederà salute andiamo avanti in questa analisi che necessariamente diciamo procede per spazi per luoghi per appunto vedere che roma rappresentata quanta roma rappresentata eccetera dicevo la volta scorsa il ripeto in partenza oggi belli è completamente lontano del tutto l'assente da una rappresentazione bella da cartolina piacevole quella pronta per gli stranieri a meopatacca insomma che in qualche maniera già all'epoca cominciava a offrirsi della nostra città è completamente lontano da da pinelli insomma eh proprio perché la sua rappresentazione di roma non è mai eh oleografica non è mai adesso rappresento e racconto un contesto una situazione una un monumento eccetera molto semplicemente eh eh Roma c'è Roma è Roma è lo spazio dove si svolgono gli avvenimenti della vita dell'uomo insomma eh e dunque non c'è bisogno di andare con un atteggiamento descrittivo e tanto meno elogiativo eh della città non è un problema che lo interessa non gli interessa la diamo per scontata e la eh e lì avvengono le vicende degli esseri umani ora detto questo il ripetuto questo com'è Roma è capo Munni e l'abbiamo visto ma è un capo Munni che lascia estreme perplessità eh in Belli anzi anzi lui sottolinea sempre il fatto che Roma davvero dovrebbe essere capo Munni davvero dovrebbe essere la città esemplare ma proprio non ci riesce viste le sue eh pazzesche contraddizioni per le quali lui prevede eh alternative per le quali Belli prevede cose che possano migliorare e si Roma mh c'è ad andare così si poterano in principio in un cappeggio cioè Roma è questa dunque trasmette una visione non disillusa ma proprio disperata eh di quella Roma che lui sa e obiettivamente rappresenta come una città in cui avvengono davvero delle assolute profonde eh ingiustizie ma questo lo fa dire dai fatti non dalle parole dei popolani quali anzi sono tutti molto contenti di abitare a Roma questa famosa questa famosa persona che si svolge a una donna gravida che gli dice ma che si matta a tira arza appesi tutto il tutto il giorno arza appesi guarda che finisci che abbrutisci no eh come come succede a chi queste cose qui dice questa persona probabilmente una donna ma non non è detto dice alla donna gravida qui certe catiche certe fatiche non se fanno qua noi siamo romani e no arbanesi noi siamo romani e no abitanti di Albano Laziale eh quest'aria non è aria da villani noi non siamo facchini io ve l'ho detto noi per grazia di Dio siamo romani ora in questo per grazia di Dio siamo romani sembra massimo dell'orgoglio la concentrazione assoluta dell'orgoglio quasi una una no molto solenne noi per grazia di Dio siamo romani ma è ovvio che qui c'è in Belli un'altra considerazione e un'altra allusione e sì saremo pure eh grazie di Dio ma eh questa città come come funziona come è è è quel disastro che lui eh che lui scopre continuamente e allora per cominciare questa passeggiata nei luoghi belliani dopo aver appunto ripetuto che eh davvero Roma è Capomunni non eh meritando di chiescerlo eh dimostrando che ha un titolo che in qualche maniera non si merita allora oggi ho eh eh stravolato da tutti i sonetti alcuni sonetti su alcuni eh luoghi eh i luoghi di di Roma di cui vi voglio eh parlare eh intanto parliamo dei porti a Roma c'erano eh due porti il porto di Ripetta e il porto di eh Ripagrande però anche qua questi due porti non vengono rappresentati con magnifiche rappresentazioni al contrario Ripetta ha ricordato molte volte forse moltissime molte ma solo ricordato come il luogo dove dalla Sabina portavano prodotti il più delle volte di qualità scadente a cominciare dal vino eh viene ricordato eh nel fatto che lì c'erano a Ripetta eh andavano le donne a lavare eh a lavare i panni e lì c'era la il traghetto che passava le due sponde del Tevre il famoso passo di Ripetta eh sai lo sposo di me alla lavannara Cucco Sferra che il bravo notatore proprio mosto fiumaccio traditore gliel'ha fatta tra il passo e la legnara la legnara era un un deposito dove si raccoglievano eh i i legni trasportati eh dal dal fiume stesso allora eh ecco eh il fiumaccio è traditore perché al bravo Cucco Sferra che peraltro era un bravo notatore eh lo ha fatto lo ha fatto affogare eh e dunque il come vedete anche in questo caso eh c'è una rappresentazione di di un luogo in questo caso il porto di Ripetta o come spazio dove appunto avvengono le contraddizioni o anche le cose negative eh dell'umanità per esempio il vino eh il vino che non valeva nulla oppure dove succedono appunto le tragedie come il caso di Cucco Sferra. L'altro porto Ripagrande quello a Trastevere eh sono ricordate ma sempre con questo atteggiamento non è che c'è il porto di Ripetta il porto di Ripetta no è sempre mh nelle cose che avvengono eh sono ricordate le tartane sono ricordate la dogana floviale ma il nome Ripagrande non esiste perché è Ripa eh e Ripa eh Ripagrande ricorda soprattutto l'ospizio eh di San Michele l'ospizio che appunto come sappiamo era eh aveva molte funzioni che è stata proprio sul dubbio ehm che all'epoca non c'era così così preciso eh che che comprendeva molte istituzioni il ricovero dei vecchi e l'ospizio per le scuole artigianali e soprattutto le carceri le carceri per i minorenni e le carceri per le donne di malaffare. Allora i porti vengono citati ma il parlante belliano non gli dà eh appunto mai un ruolo eh come dire come luogo eh da visitare o da descrivere eh staccandolo del resto del contesto. Lo stesso discorso è per i ponti eh per diciamo per le porte eh le porte ehm erano ventuno di cui vi dicevo l'altro giorno soltanto tredici erano usate al Tempio dei Belli e vengono ricordate abbastanza poco. La più nominata di tutti è Porta del Popolo poi un paio di volte Porta San Giovanni, un paio di porte Porta Pia e sostanzialmente basta. Ehm c'è anche questo discorso sui ponti eh dei ponti è ricordato spessissimo quello che era il principale ponte di Roma che era Ponte Sant'Angelo. Ponte Sant'Angelo collegava San Pietro e Roma dentro eh dentro l'alveo del del Tevere e proprio alla piazza di Ponte Sant'Angelo convergevano tutta una serie di strade eh prima di attraversarlo diciamo e andare verso Castel Sant'Angelo ehm convergevano tutte le strade eh di di del del centro di Roma e ve l'ho detto l'altra volta il tridente quello che per oggi noi è il cuore di Roma in realtà all'epoca di Belli era Pia del Babuino era quasi campagna insomma non era così intensamente abitato anche se Pia del Corso sì ma soprattutto quella parte centrale per capirci eh e ehm le diciamo gli avvenimenti di Roma il traffico di Roma eccetera avveniva proprio come vi dicevo in tutta quella parte che sta eh verso il Ponte Sant'Angelo Corso di Torio che ovviamente non esisteva sia chiaro che sia una una Corso di Torio insomma dalla dalla proprio dentro eh lanza lanza del Tevere le fontane le fontane adesso ehm qualcosa diremo anche qua però eh ultimamente eh ho dovuto fare forse ve l'avevo detto l'altra volta c'è una una mostra alla al al termine di Dio Colazziano eh andateci perché è una bella mostra sull'acqua a Roma ehm fatta dalla c'è eccetera e allora mi hanno fatto diciamo spinto a fare un 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 approfondimento proprio sul tema delle fontane e ho constatato che c'è un'assenza eh delle fontane tranne alcune sia chiaro Roma è zeppa di fontane Roma è una città zeppa d'acqua ecco è stata la sua caratteristica la sua salvezza dai tempi romani fino a oggi i famosi eh nasoni eh il però l'atteggiamento di Belli non è appunto eh lo ripeto mai banalmente descrittivo per cui sono ricordato alcune fontane dove però avvengono delle cose tranne una eh anzi tre che adesso sentiremo ma le fontane sono i luoghi dove avvengono delle cose vengono il la la mamma che strilla al bambino scendi giù Cesare scendi giù dalla fontana eh perché appunto era salito sulla fontana e quindi poteva essere ehm poteva farsi male eh piazza Navonna eh lo sentiremo eh una volta sola si sono nominati i fontanoni di di San Pietro una volta sola è nominato la la fontana del tritone perché c'era il gelo 7 febbraio 33 e andate a vedere un po' che bagatella de zazzera che ha messo tiritone che bagatella che che quantità piccola ma in realtà significa il contrario eh di zazzera cioè di di barba diciamo ha messo tiritone cioè io mi ricordo di averlo visto perché al tritone cadeva l'acqua e si ghiacciava e questa è la bagatella de zazzera che dice e che dice eh viene eh viene nominato eh credo una volta sola eh il fontanone dell'acqua paola sul genicolo ma viene nominato come quasi un'antonomasia cioè il luogo la una cosa eccezionale ma piano allora c'è qualcuno che sta dicendo boni boni facciamo esagerazione e che sarà mai che è successo e comincia così piano piano e che dè spara castello allora castello sparava solo in occasioni eh fondamentali e andiamo avanti c'è il fontanone di san pietro montorio ecco allora le cose eccezionali sono sono queste qua quindi anche il fontanone dell'acqua paola è citato soltanto come cosa eh eccezionale fontanone di trevi è ricordata eh parecchie volte eh come il 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 posto l'acqua che esce da fontanone trevi e ogni acqua che ci lavi e che ci bevi di estate fredda e poi d'inverno è calla ecco questo era il il la fontana eh più in qualche maniera eh nominata eh e eh oltre a queste che adesso eh incontriamo allora detto questo sui ehm sui porti di Roma ripeto arriva grande che ci sono ma molto marginalmente detto quest'altra cosa sulle porte che ce ne sono anche queste eh abbastanza marginalmente e questa sorpresa curiosa che fontane ce ne stanno nominate molto poche rispetto invece all'enormità eh delle fontane eh di Roma vediamo adesso le piazze e cominciamo ovviamente inevitabilmente da un sonetto di una bellezza strepitosa che è appunto piazza Nauro che che è l'esatta negazione della mia tesi cioè belli non scrive che sonetti dedicati a luoghi specifici belli non scrive sonetti perché come dire possono essere cartoline da vedere in questo caso sì anche se però come sentiremo alla fine un elemento eh è eh di contraddizione di polemica di riflessione c'è anche in questa piazza Nauro che è un sonetto di esaltazione a partire da questo attacco eh celeberrimo se può fregare piazza una mia cioè piazza una mia 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 ma quando mai belli dice mia e quindi è davvero eh il luogo di Roma la piazza di Roma quella Roma lì sia chiaro eh che identifica proprio la la comunità e appunto in questo caso proprio l'esperienza eh vissuta perché belli veramente mia non lo dice mai eh ora è vero che non parla lui è vero che fa parlare un popolano ma insomma non abbiamo capito che poi è lui che parla ecco quando perciò dice piazza Nauro una mia è proprio questo entusiasmo questa eh accettazione questo grandiosità del luogo che appunto dice all'inizio se può fregare se ne può infischiare sia di San Pietro che di Piazza di Spagna le fontane per eccellenza di Roma le fontane che in tutto il mondo identificano Roma San Pietro l'intero mondo Piazza di Spagna soprattutto gli inglesi dice Belli tutti gli inglesi di Piazza di Spagna no? Eh e c'era no? Infatti lì vivevano come sappiamo ospiti eh inglesi fondamentali sempre negli stessi anni di sostanzialmente di Belli Piazza di Napona invece è eh piazza San Pietro è un posto dove ci si va per prendere la benedizione del Papa per per partecipare alle cerimonie eh piazza di Spagna è un luogo là talmente bello ci passano gli stranieri amen ed è già paradossalmente ai confini dell'abitato no? Ai confini dell'abitato sopra c'era eh Piggio c'era la la Villa Borghese insomma eh cioè diciamo era eh ai confini dell'abitato la piazza che è Roma perché sta tutta dentro Roma perché è fatta dalle persone che ci apino ora oltre che delle bellezze eh architettoniche è appunto piazza Navona che ha queste tre fontate tre fontane inarberate ritte eh formidabili una guia che pare una sentenza guia lui dice obelisco egizio è pertenente già al circo di Caracalla è ora qui elevato sopra la maggior fontana nel centro della piazza per opera del Bernini e vabbè che questo lo sappiamo e infatti ecco queste tre eh fontane qua se far lago quando torna estate in tutti i sabati leggo le note di belle e le domeniche del mese di agosto si allaga questa piazza occasione di concorcio e di allegrezza per i romani questa era eh un'abitudine che c'era e eh dal sabato sera fino a luna di notte della domenica piazza Navona era eh era allagata ehm e la la l'osservazione la conclusione eh che non ti aspetti ed ecco è proprio un'osservazione che dicevamo prima eh quindi non è una rappresentazione oleografica della città eh ma è una rappresentazione autentica perché che fa la gente a piazza Navona lo sappiamo e lo sentiremo e però c'è anche il è anche il luogo dove si alza il cavalletto eh specie di supplizio creduto necessario alle natiche del nostro volgo che appunto dava le frustate eh era una condanna eh pubblica che era eh un'autentica dramma serio ma non solo perché insomma le frustrate sul sul sedere nudo non è che sono piacevole ma la cosa drammatica era che avveniva in pubblico appunto per esempio a piazza Navona era uno dei luoghi dove avvenivano condannate a 30 anerbate sul culo ecco allora lì uno veniva messo eh no eh con la pancia su una cosa e quindi da dire figuriamoci che succedeva i ragazzini le persone che passavano eh il delirio eh era una cosa veramente drammatica ehm allora eh la la battuta finale era che si diceva eh che eh le ultime eh nerbate venivano date per la beneficenza per l'istituto della beneficenza allora eh il numero delle nerbate cambiava a seconda delle delle conti e allora eh qua belli eh dice una cosa che forse dicevano eh dicevano in parecchi ma insomma serve perché ecco che c'è il il cavalletto che dà queste nerbate e poi ci aggiunge delle nerbate in più proprio per la beneficenza ora come capite c'è una è una battuta assolutamente eh polemica nei confronti di questa continua fusione eh che c'è eh a Roma se può fregare piazza Navona Mila e di San Pietro e di piazza di Spagna questa non è una piazza è una campagna un treato una fiera un'allegria va dalla pulinara alla corsia curri dalla corsia alla cuccagna per tutto trovi roba che se magna per tutto gente che la porta via qua ci so tre fontane inarberate qua una guglia che pare una sentenza qua si fa il lago quando torna estate qua sarsa il cavalletto che dispensa sul culo a chi le vò trenta nerbate e cinque poi per la bonofficenza a chi le vò ma come a chi le vò che nessuno le vuole ma insomma è chiaro che eh polemico no eh nei confronti di questa punizione ripeto sì certo dolorosa ma spaventosamente umiliante per le condizioni in cui eh veniva veniva attettuata. Allora piazza Navona Mia eccola qua è l'unica piazza direi anzi è l'unico luogo che il ehm che Belli eh tira fuori e lo fa diventare protagonista di un di un sonetto ce ne sono anche altri sia chiaro ma così coerente così lineare così dentro la la ricchezza di di questa di questa piazza in cui sentite che è una cosa che a cui corrisponde la vita in tutti i suoi aspetti trovi eh dappertutto trovi roba che si mangia dappertutto gente che la porta via le fonti le fontane la guglia il gioco il lago la solidarietà la punizione la giustizia ecco la vita si rappresenta in tutte le sue componenti quelle entusiastiche e quelle però anche repressivi drammatiche terribili a cui si eh doveva eh vivere in quella Roma lì e ancora piazza Navona eh Belli dedica eh altri tre sonetti dunque come abbiamo capito eh fin dal da questo inizio piazza Navona Mia e eh la fontana romana per eccellenza per eh per Belli è appunto piazza Navona ecco questo sonetto ermoro de piazza Navona ermoro piazza Navona è eh quella statua che sappiamo l'etiope in lotta con un delfino che sta al centro della fontana meridionale di piazza Navona opera di Bernini tanto per eh per per gradire allora eh il il eh si parte eh per dire che cosa un aneddoto ma un episodio una cosa avvenuta vedi là quella statua del moro che ha rivorta la panza a Santa Agnesa e beh una volta una signora ingresa la voleva dar papa appeso d'oro viene in mente vi ricordate totò che vende la fontana dei trevi no vi ricordate ma il santo padre tutto il conciastoro sapendo che quel marmoro di spesa costava due secchini che non pesa senza ne manco valutare il lavoro gli fece a replicare dal senatore come qualmente non voleva venne una fontana di quel gran valore e quell'ingresa che poteva spenne dicheno che c'è morse de dolore luce a te i requia e scanti in pace a menne è un bel invena di di divertimento e racconta questo episodio verosimile inverosimile di questa turista che vuol comprare per moro di piazza Navona il papa lui dice no e lei ci schianta di dolore ci muore di dolore e qua invece ecco il 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 cuore della di piazza Navona il fontanone di piazza Navona questo questo non si racconta non si descrive direttamente com'è questa fontana ma si parte da un episodio un episodio che ma insomma chi racconta vorrebbe far credere vero ma è del tutto privo no di 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 credibilità storica e alla fine il tutto perciò si risolve eh con una eh battuta eh che eh diciamo poi sottolinea eh un aspetto invece eh vero quando era vivo il nonno della zia del compare del socio Rodemina qua da piazza Navona a Tormellina ci è successo un tumurto e un parapia per causa che un orrenna caristia dei punti in bianco in gioventù a mattina ma no a quattro boecchi la vaccina quattro bio ehm bagliocchi la carne eh di manzo eh cioè tantissimo senza né manco di Gesù e Maria eccola allora come vedete bene qui il fontanone di piazza Navona invece belli sceglie un episodio posto che sia mai avvenuto in cui c'era un rialzo eh dei pezzi inaudito ecco che perciò si toccano invece le contraddizioni storiche le realtà storiche da basti a dì che la ribellione eh da basti a dì che della ribellione che coruna serciata quel pupasso gli è fecero sarta netto erdetone chi dà la corpa un boccio vecchio chi è un ragazzo ma il fatto è che quell'uomo al fontanone pare che dighi a voi quattro del cazzo come dire no quattro bagliocchi in più no ecco così ben parate a voi eh romani dunque come vedete bene questo fontanone viene rappresentato in quanto protagonista insomma diciamo che ci siamo capiti in che tipo protagonisti e ehm e però eh appunto di un episodio eh diciamo di 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 polemica insomma di 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 contraddizione eh sociale e poi ecco questo celeberrimo sonetto del mercato a piazza Navona il mercoledì c'era piazza Navona il mercato quello che adesso sta a Campo dei Fiori eh e e appunto era eh il mercato in cui si vendeva tutto allora si vendeva tutto e come eh sentiremo che cosa si vendeva ma a un certo punto il parlante scopre che si vende anche una cosa buh strana stranissima e qua il contrasto fra poeta e parlante è assoluto perché eh come sentirete ma certamente lo conoscete questo senso ma non possiamo non leggerlo eh è il la polemica è eh è sui libri eh e quindi il fatto che eh chi era che impediva metteva difficoltà alla lettura e perciò alla cultura e perciò alla crescita dell'individuo e adesso lo 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 scopriremo dunque si ha il forte sospetto che questo sonetto nasca dalla precisa intenzione di Belli di trovare il il meccanismo per poter arrivare a quello che è il cuore fondamentale della eh del sonetto come sentirete sta di fatto che però all'inizio ecco che succede il mercoledì a piazza Navona è il mercato che piazza Navona che è il mercordì al mercato gente mia c'è siano ferravecchi scatolari rigattieri spazzini cioè quelli che vendevano oggetti piccoli bicchierari stracciaroli e tant'antre marcanzie non c'è niente da lì ma ste scanzie da libri e sti libracci e sti librari che ci vengono a fare cosa ci impari da tanti libri e tante librarie tu pia un libro a panza vota e dopo che l'hai tenuto per qualcuno in mano dimmi sai fame o sei maniato troppo che predicava alla missioner prete li libri non so roba da cristiano figli per carità non li leggete come capite qua perciò tutta la polemica contro questo prete oscurantista negativo no che che ovviamente belli disprezza ridicolizza il quale il quale prete dalla miss alla missione cioè la quando si facevano le le prediche che predicava che cosa predicava e libri non so roba dai cristiani e questa prima tersina è formidabile tu pia un libro a panza vota e dopo che la tenuto per qualcuno i libri non non spavano in qualche maniera e quindi eccola la reazione della della del popolano nei confronti della lettura una reazione però abbiamo letto diciamo nasceva dalla proibizione che c'erano ai libri che non era proprio proibizione ma insomma vabbè sinteticamente era il concetto del del sonetto è questo continuiamo con le piazze la piazza navona no piazza navona l'abbiamo vista in parecchi sonetti proprio per sottolineare la centralità della 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 presenza di piazza navona la le altre piazze che vengono nominate o che di cui che diverte che diventano diciamo in qualche maniera protagoniste dei sonetti bene ne ho selezionate alcune allora questa è piazza miglianelli dove c'è una dove hanno messo una cosa nuova che si chiama banca romana allora un insegna formidabile contro questa banca romana e che però sta banca romana come ha detto qualcuno che c'è niente capisce poco la lingua italiana e qui ecco come vi dicevo prima dal popolo mannale domacelli sulla piazza di spagna a mano manca il fondo la piazzetta miglianelli piede petto una facciata bianca e qui ci fermiamo nella lettura proprio per dire come di nuovo in questo caso due piazze anzi tre dalla piazza del popolo per andare via i due macelli sulla piazza a mano manca la piazza della spagna c'è piazza miglianelli ecco vedere la topografia com'è rispettata dove c'era appunto l'insegna della della banca romana montecitorio ecco la piazza di montecitorio che appunto è quella della del palazzo montecitorio che è un palazzo importantissimo bellissimo che qua il parlante belliano ha in qualche maniera descrive era il palazzaccio per capirci era il palazzaccio era la sede del dei tribunali dunque in quel palazzo lì c'erano continuamente avvocati puriali che abbiamo già incontrato giudici e quindi era un luogo da roma e dai romani temuto abbrito in qualche maniera com'è montecitorio tra tutti li più meglio palazzoni montecitorio è un pezzo signorile ti è bannerola orloggio e campanile con un grandissimo par de campanoni venticinque finestre e tre portoni fra quattro colonnette incise a pile due cancelli di fianco un bel cortile fontana scalareggia e gran salone l'unica cosa sola che fa torto al papa che c'è solo i tribunali è che non ci abbia fatto a giugne un orto mi fermi allora avete sentito che meraviglia questa descrizione fontana scalareggia salone eccetera eccetera bellissimo posto c'è però una cosa che il papa non ha fatto non ci ha arzato ci ha arzato i tribunali però non ci ha fatto aggiungere un orto un orto e che c'entra adesso un orto in un posto del genere vi devo anticipare che piantare carote che è una locuzione non solo del romanesco ma anche della lingua significa dire scemenze dare e intendere scemenze ehm ricordate eh eh allora e che c'entra adesso eh l'orto con il luogo dove ci sono gli avvocati l'unica cosa sola che fa torto al papa che c'è al sole i tribunali e che non ci abbia fatto a giugne un orto non sapeva quel sommo sacerdote quant'abbino bisogno gli curiali di un sito per piantacce le carote non sapeva quel sommo sacerdote il papa che quanto abbiano bisogno gli avvocati di uno di uno spazio per piantare carote per dire scemenze per dire eh fandoni allora ecco qua che come eh è successo eh per il rezzonetto su piazza una che può da colpire eh il la punizione del cavalletto così questa descrizione vorrei dire anche esaltata della bellezza di Montecitorio poi diventa l'occasione per dare una una frecciata anche pesante nei confronti dei eh dei eh così dei degli avvocati eh il campanone e il campanone del Montecitorio era successo un fatto che si era eh il rotta la la campana maggiore delle due che suonano l'ora dell'orologio di Montecitorio era quello che diciamo dava il come come suonava iniziavano il il le attività all'interno del del palazzo di giustizia quel quello che in un altro sonetto belli scrive ogni mattina regola l'imbrogli del paese quel campanone là e adesso era era successo una cosa strana eh si era eh si era crepato e dunque si era se non si era crepato non poteva più suonare l'abbati nominerà gli abbati sono gli avvocati sono di nuovo i i curiali sgrassare vuol dire eh rubare si è crepato figlioli il campanone del tribunale e devono essere stati tutti le mappalà che gli ha mandato chi ha avuto torto con l'aver ragione eh tutte le maledizioni tutte le impregazioni che che gli ha mandato chi ha avuto torto invece aveva eh aveva ragione e come mo si chiamerà l'abbate a sgrassare i grienti in quel macchione come se sonerà nelle funzioni e negli temporali scatenati consolatevi figli e il tesoriere dopo avebbe stemmiato un mese e mezzo alla fine ha chiamato un del mestiere e gli ha detto col solito su stile fagborischi sor ladro che dei il prezzo per rifà la campana al campanile e qua come vedete belli se la prende e con una giustizia ingiusta che colpisce solo alcune persone e sulle società degli avvocati e la ehm questo sì ancora temo eh attuale con il problema dei i lavori pubblici il tesoriere e cioè il tesoriere della camera apostolica che poi tra l'altro aveva sede esattamente a palazzo Montecitoni dopo un mese e mezzo abbestemmiato eh e chiama uno del mestiere ecco i lavori pubblici e gli dice immediatamente eh favorischi sor ladro che dei il prezzo no il prezzo certo parlano un po' civile insomma no sono persone che contano sono eh che sono intellettuali e quindi ecco eh favorischi sor ladro proprio perché poi eh chi fa i i lavori pubblici è un ladro eh come eh tutti gli altri ancora ehm piazza eh questa era piazza mh abbiamo visto era piazza eh Montecitorio dove avvengono tutte queste cose adesso notiamo eh e parliamo di piazza San Pietro quella piazza che è come eh sappiamo eh ed era ed è rimasta appunto il luogo dove avvenivano le funzioni sacre dove avvenivano le le funzioni più importanti e qua c'è un eh un sonetto che davvero entra in una delle più eh grandi eh contraddizioni della della religione eh e cioè e cioè come sentirete eh il fatto che la benedizione del papa eh ha la 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 funzione di togliere tutti tutti i peccati cioè diciamo c'è la soluzione piena di peccati se tu prendi quel tipo di benedizione c'è la soluzione piena allora il parlante ha un'idea come sentirete alla fine veramente è lui che parla e parla con il suo amico Gurgumella che è un soprallone curri per crisse curri Gurgumella che già il papa ha da essere importantina eh se non spiegni più Dio Serenella ci arrivamo il crepinici a mattina il crepinici il quindici eh mattina montate a qualche carretella sai la guallera gonfio il mardorina ma hanno acciaccato come una frittella manco male ecco qua la strapuntina senti che è uscito già dalla segrestia il santo padre e mu mu varlo gione oh guarda laggiù che parapia ma direbbe io se la benedizione tutte le zelle nostre saripia chi più grossi li fa meno è coglione qui siamo nel cuore di una delle più enormi eh contraddizioni no vabbè forse la parola non va a dire in questioni eh dei sacramenti la confessione qua il parlante dice ma scusa se questa benedizione se si si arepia si riprende tutte le nostre zelle tutti i nostri peccati eh beh allora pecchiamo anzi chi più grossi li fa meno è coglione allora qui c'è il meccanismo della della confessione che poi come sappiamo ha significato per la storia della chiesa e significa tuttora degli elementi centrali della ehm eh della religione eh forse vi ricorderete un suonetto sconcissimo vietatissimo ai minori e quindi non posso dirmelo che è giovedì santo eh quando eh la parlante sta di giovedì santo eh facendo insomma quello che sta facendo e lo dice con con grande trasporto eccetera eccetera a un certo punto sente spara castello allora spara castello segno che il papa sta sopra l'allogione allora siccome quando che il santo padre arza la mano puoi poi in articolo morte fare i conti a grugno a grugno con l'inverno sano allora addirittura lei che la si trova immaginiamo come eh a letto con quest'uomo e ovviamente a quanto abbiamo capito stanno in peccato eccetera oltretutto giovedì santo e improvvisamente sentono queste cose allora smettono di di consumare eh e mettiamoci in ginocchione perché eh adesso arriva la benedizione che tutte le selle no nostre sare pia no che tutte le selle nostre sare pia e non guasta che noi siamo ali monti il papa sta a San Pietro in Vaticano oggi il crocione suo passa di punti è bellissima questa immagine la santificazione del papa la benedizione del papa passa li ponti quindi attraversa tutti i ponti eccetera che non ha eh bisogno di eh nessuna eh nessuna eh e raggiunge tutti dunque eccola qua la grande loggia di piazza San Pietro in cui avviene ehm la questo eh questo fatto e avviene il mercato dell'indurgenza litigate quando ha le carte poi dell'indurgenza che il papa fa buttare giù d'arlogione trattandosi da fare delle religioni non c'eva un cazzo tanta convenienza allora il papa buttava giù le strappava l'indurgenza le buttava e quelle carte venivano rappresentate e diventavano ehm oggetti eh che fossero quasi reliquie diciamo per cui si era poi appunto eh perdonati dai peccati fatti tanto che è questo che litiga e si è affacciato di nuovo alla piazza San Pietro io so che a forza dei cazzotti in petto e tesse grazie a Dio l'esto de mano sempre ne porto via qualche pezzetto ecco no eh dai cazzotti eh alle altre persone ed è veloce a portar via le cose grazie a Dio ne porta via qualche eh qualche pezzetto come è evidente questo grazie a Dio ha un sapore assolutamente eh ironico no proprio ehm poi insomma lo stesso eh le carte per aria un senato fatto eh dodici anni dopo questo qua del papa che gettava eh le 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 carte c'è un un parlante che chiede cosa so quelle carte so cremente che nel dare papa la benedizione si vedono buttaggiù d'arlogione e volano e qua là sopra la gente so carte che non servono più a niente so cartacce avanzate dal focone e se buttano via per la ragione che è un'usanza che usava anticamente ecco allora la ehm di nuovo in un altro sonetto ecco che si è ehm c'è questa eh questa consuetudine che avveniva a piazza San Piede allora l'altro parlante dice ma io so che sono un tesoro e allora il secondo parlante gli dice ma quale tesoro ma dove hai mai visto buttazzettini se fossero davvero un un tesoro ovviamente non eh non sarebbero non sarebbero buttate così via come come se niente fosse ehm c'è un'altra piazza eh devo andare avanti Chiara? Sì altri cinque minuti? Sì eh c'è un'altra piazza che eh non possiamo non ricordare eh perché Piazza Poli? Allora Piazza Poli l'inizio del attuale del Tretone eh era la piazza belliana per eccellenza perché lì Belli ha vissuto vent'anni dal sedici al trentasette e lì ha scritto la grandissima maggioranza dei suoi genitori ma sì lì ha pensati, progettati, elaborati e poi scritto eh e ehm perciò Piazza Poli quel palazzo lui abitava in una parte del palazzo e adesso non c'è più perché fra le tante opere che avvenute poi come abbiamo detto dal dal settanta in poi una è stata il raddrizzamento del Tritone. Il raddrizzamento del Tritone è stato un una ha ha significato tagliare proprio un pezzo di Piazza Poli. Piazza Poli arrivava da come arriva adesso ovviamente da Fontana ai Trevi a al Nazareno per capirci insomma molto al di là del del come si dice del Tritone. Poi il raddrizzamento del Tritone si va proprio togliere un pezzo di quel palazzo proprio il pezzo dove abitava eh lui e c'è questo stranissimo sonetto e dico strano perché eh beh le abitava a Piazza Poli e qui il parlante dice che abita a Piazza Poli. Ora è ovvio che è un gioco è una combinazione poco importante anche perché sentirete che poi l'obiettivo del parlante è come al solito non quant'è bella Piazza Poli che in particolarità c'è Piazza Poli che c'è Fontana ai Trevi c'è per no 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 Piazza Poli e siccome era una piazza eh rovinata e aveva fatto bisogno di essere eh rimesso il la sede eh stradale eh i lavori pubblici ci mettevano un pochetto di tempo ecco anche questo come dire è un tema vabbè insomma titolo la fanga de Roma la fanga nemmeno il fango la fanga questa allora c'è qualcuno che sta da una parte no e qualcuno gli dice ma guarda che fanga questa a ne manco è fanga per vederla sa dannarli sterrati a Piazza Poli in dove abito io che se non voli c'è trapassi in barchetta o in carrettella c'è fosse almeno un po' de serciatella attorno attorno quattro serci soli da metter piede e annà sotto alle scuole delle gronnare ma ne manco quella per ricrami ne famo ogni tantino e allora ecche te due con un treppiede un cannello con l'acqua e un occhialino a sti scannai tu c'è pigli fede e beh so già dieci anni col cudino e la serciata ancora non si vede so già dieci anni col cudino dieci anni con la coda dieci anni in pezzetto eh ma la serciata ancora non si vede questa immagine di quelli che arrivano il 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 geomotra che arriva col cannello dell'acqua e l'occhialino no il treppiede no con l'altro a distanza per vedere le distanze vese tutto dritto eccetera arrivano questi qua e tu accetto fanno gli scandagli e tu c'è pigli fede so più di dieci anni e la serciata ovviamente ancora non si vede ecco allora il 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 soltanto in pochissimi casi per esempio la bocca della verità c'è il tornare a una leggenda no ficca ma si tica la mano uno in bucia e si sicuro che a tirarne a spigli quella mano dell'inubile più via no famosa leggenda che tutti che tutti sappiamo eh che sta tra piazza montanara dice eh belli e eh e il tevere insomma la salara eh e eh il il centro il cuore perciò di di questa riflessione è che le piazze come i ponti e come le porte ma ponti e porte abbiamo visto nominate quasi sempre discusate porte pochissimo ponti un pochino di più ma eh la il cuore di Roma non erano i ponti il cuore di Roma era sempre quella eh quella striscia nella nella curva del del tevere quindi la gente lì dentro eh sostanzialmente viveva eh e allora le le piazze eh vengono eh messe non certo come luogo eh di esaltazione e di eh magnificenza eh artistica a parte piazza Navone però anche in piazza Navone ricordate che c'è la presenza dell'uomo chiudo chiudo con la piazza del ponte Sant'Angelo perché la piazza del ponte Sant'Angelo? La piazza del ponte Sant'Angelo quella che c'ho all'inizio del ponte ehm ehm a Roma insomma non non dalla parte di Castel Sant'Angelo di qua la piazza del ponte Sant'Angelo vi dicevo prima era fondamentale dal eh nella 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 vita della dei romani tutta la gran parte la gran maggioranza del traffico avveniva intorno per le zone proprio perché era il ponte che collegava dicevamo prima il San Pietro e eh il resto eh della città peraltro quando erano c'era particolare eh particolare traffico di 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 Pellegrini e d'altro c'era addirittura il eh il ponte aveva una marcia di qua e una marcia di là se no ci sarebbero stati veramente guai eh nodo stradale eh enorme eh e il eh e proprio perché era questo nodo stradale enorme era un luogo dove avvenivano le condanne a morte le condanne a morte erano eseguite anche a piazza del popolo ed erano eseguite a campo di fiori eh no c'è morto Giordano Bruno e anche a via di Cicchi ma moltissimi erano la piazza eh la piazza eh la piazza di ponte la piazza del ponte Sant'Angelo er dilettante del ponte e questo è il sonetto che eh dice vengono vengono a vedere è un eh un esperto non avevano visti annare la ghigliottina da venti e trenta tra il popolo e il ponte e il ponte eccolo la piazza di ponte dunque la di nuovo c'è un'osservazione terribile drammatica la piazza più importante dal punto di vista del traffico e la piazza che poi porta a San Pietro era la piazza dove avvenivano le eh condanne a morte ora è evidente che le condanne a morte lo sappiamo bene erano eh erano una prassi normale una prassi eh in tutta in tutto il mondo c'era una condanna a morte e soltanto recentemente possiamo dire è stata eliminata dalle giurisdizioni e non dappertutto eh belli eh anche sulla condanna a morte riflette eh riflette sulla contraddizione che c'è appunto fra questo tipo di punizione e non arriva proprio a condannarla la condanna a morte però certamente esprime moltissimi dubbi proprio perché siamo a Roma e quindi non dovrebbe essere la condanna a morte dovrebbe essere il luogo della condanna alla risurrezione della condanna della promozione per la promozione per la vita del tutto ecco allora il piazza di ponte che poi il posto dove è stata recapitata Beatrice Cenci ecco che diventa eh questo questo simbolo anche questa perciò di nuovo non una piazza da rappresentare dal punto di vista no della dell'illustrazione ma una piazza dove avvengono le contraddizioni dell'esistenza quelle positive e quelle allora io chiudo qua eh abbiamo parlato di ponti eh quel poco che c'è di piazze e ce ne è di più ma sempre piazze dentro le 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 vicende dell'uomo e di porte che però sono sostanzialmente un'assenza ma l'abbiamo capito perché perché il romano sta dentro e che pretenderessi io vi la vanga è andare a lavorare come un villano no noi stiamo tutti dentro eh questa città che però belli rappresenta come una città zeppa di contraddizioni io vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti